Musica 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 No! Atenție! Sunt explozibili! Atenție! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Să te omor cu mâna mea! Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Oh, mi pare rau Oh, mi pare rau Davi fritsa! Rai! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.